Penso che abbiamo fatto una buona gara soprattutto all'inizio, siamo partiti bene, abbiamo trovato subito la rete del vantaggio e niente, poi è normale che loro sono venuti un po' più fuori, hanno un buon possesso palla e noi ci siamo un po' abbassati però penso che era la partita che dovevamo fare sull'1-0, è normale che dopo ci sono state alcune scelte arbitrali e ci hanno un po' disturbato la partita però insomma è umano sbagliare, tutti sbagliamo e lo dobbiamo concedere, andiamo avanti, lavorando come stiamo facendo ora c'è l'ultima partita, siamo contenti del nostro campionato, volevamo raggiungere il decimo posto però con questo risultato ormai non possiamo più arrivarci, però ci teniamo la prestazione che è stata penso buona Una buona prestazione per quanto riguarda anche ovviamente dal punto di vista personale Simone soprattutto per quell'intervento che ha strappato tantissimi applausi nel primo tempo ma poi alla fine la Samp non ti ha creato così tanti pericoli per quanto era anche la superiorità numerica No, io penso che abbiamo interpretato la partita nel modo giusto, infatti loro hanno avuto veramente poche occasioni poi ovviamente al secondo tempo giocarlo tutto con un uomo in meno non è facile quindi già eravamo in vantaggio, quindi ci eravamo un pochino abbassati per quello poi il fatto di giocare con un uomo in meno ci ha molto condizionato Ha condizionato tantissimo l'espulsione ovviamente di Rodrigo De Paul giustamente diciamo anche da casa quello che ci stavamo dicendo prima di entrare in onda poi io sono quello che magari ha visto un po' di più le immagini è ovvio che da lì è la decisione madre che ha un po' poi scompaginato tutto il resto della partita Sì, penso che sia stata questa decisione che ci ha fatto del male però insomma io non vorrei troppo metterci il carico da 10 per l'arbitro vorrei solamente dire che abbiamo fatto una buona partita molti giocatori hanno fatto bene Simone ha fatto una gran parata Duvan ha corso per tutta la partita tenendo tutti i palloni e ha messo in difficoltà la loro retroguardia e De Paul fino all'espulsione penso che abbia fatto una gran partita sia sotto livello, sia sulla fase offensiva e sulla fase difensiva e questi sono insomma va premiato questo ragazzo e tutta la squadra credo che ha fatto la propria partita andiamo avanti e possiamo davvero migliorare Flash a tutti e due siete stati entrambi compagni di squadra di Muriel vi aspettavate quello che è successo dopo il gol ok fischi però no no io gliel'ho detto a Luis che ha sbagliato aveva già fatto gol quindi la sua diciamo rivincita tra virgolette se l'era già presa e niente poi insomma finita la partita torniamo amici ecco come prima però ha sbagliato a fare questo gesto davanti ai nostri tifosi tu come l'hai presa Simone? ah sì penso di essere comunque d'accordo perché è un gesto che si poteva evitare ecco infatti c'è stata la reazione che c'è stata perché era proprio un gesto che non ci stava ecco nel momento potrei essere contento per il gol però così diciamo un po' troppo un po' troppo a te Simone chiedo anche una domanda inevitabilmente sul futuro stai facendo benissimo in queste ultime gare Del Neri è chiaro molto chiaro in conferenza ha detto siete tre portieri tutti e tre bravissimi nessuno può fare la riserva all'altro come insomma vedi Simone Scufetta fra qualche mese tu sei pronto a giocarti tutte le tue chance qui? queste poi sono decisioni che che faranno le persone competenti e che hanno diciamo parole in merito io sto cercando in queste occasioni che mi ha dato il mister di mettermi in mostra domenica sarà un'altra partita importante per me io cerco appunto di dimostrare il mio valore di fare quello che so fare poi le decisioni non aspettano a me quindi l'estate sarà lunga e vedremo cosa succederà torni sul luogo dove hai fatto la migliore partita della tua garrina? sì probabilmente è stata una delle partite forse la partita più bella uno stadio così importante comunque è sempre bello tornare e infine l'ultima considerazione prima di ridarvi la linea allo studio è con Gabriele ti mane questo rammarico per non aver regalato quest'ultima vittoria ai tifosi però avete chiuso con applauso sotto la curva immagino che per quanto dato in campo avete poco da recriminare no no penso che la prestazione è stata positiva abbiamo dato tutto ecco anche un uomo in meno e quindi niente c'è da ringraziare i tifosi per questo anno ci hanno sempre sostenuto e niente noi dobbiamo lavorare e penso che abbiamo molti margini di miglioramento ecco grazie a tutti grazie a tutti